Non lo sento? Se vi togono i capelli siete contenti? Quindi ragazzi, dobbiamo fare qualcosa! Alla fine, quello che vanno a tagliare è sempre la scuola! Cosa fanno? Tagliano le carte dagli insegnanti! E noi cosa dobbiamo? Ci dobbiamo sempre accontentare! E questo è un basta! Quindi oriamo basta! Una, due, tre... BASTA! 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 Bravino! Continuiamo! A Zotanoso non è mia macchina, voglio... Andiamo avanti, andiamo avanti! Falli fermare! Fermi! Fermi che ti passerà avanti! Bapotino! Guarda che manovra stanno facendo! Fermi! Vai, vai, vai! Vieni, hai messo la musica! Andiamo avanti! Perché tu non metti l'arrivo? Andiamo! Andiamo! Metti in patto! Fermi vai! Ok! Vieni, vai! Vieni, vai! Piano, piano, piano! Vieni, vai! 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 Vieni, vai!